Gianni Crosio, il governo Renzi continua la sua opera di smantellamento degli uffici postali? Sì, il sacrificio che viene chiesto alla periferia e in modo particolare ai territori montani è eccessivo. Noi ieri, io a nome della Lega, l'ho chiesto all'amministratore delegato di poste e la nostra posizione tra l'altro è stata condivisa da tutta la Commissione chiedendo all'amministratore delegato di fare delle altre valutazioni nel senso che le valutazioni che vengono fatte in base ai parametri messi a vincolo dall'Agicom sono sbagliati. È un grande sacrificio che si chiede ai territori di montagna. Sarebbe più opportuno fare gli stessi sacrifici polverizzati nei grandi centri urbani, non sarebbe così traumatico, non sarebbe così violento sul territorio e porterebbe gli stessi benefici. Questo è stato condiviso in Commissione e noi stiamo lavorando affinché settimana prossima la mozione a mia prima firma sulla questione delle poste venga incardinata in aula al Senato e si possa dibattere e fare un ragionamento serio e importante sulla questione degli uffici postali. Gli uffici postali fanno un servizio sociale e su questo noi stiamo vigilando. Credo che l'atteggiamento visto ieri in Commissione ci dia delle speranze. Confidiamo anche che Caio, che è una persona seria, è sicuramente capace, ha l'autorevolezza e le capacità di rivedere le sue posizioni, di rivedere questo piano di razionalizzazione sul quale non siamo assolutamente contrari. La Lega non è contraria alla razionalizzazione delle spese e al mantenimento del servizio così com'è, ma è vigile sui territori e è vigile verso i cittadini. Questo per noi è importante.